Io sono Lorenzo Manara, lavoro per l'azienda agricola Balestreri Marcello e Lara che hanno le vacche, circa 900 capi in latazione, 1700-1800 totali. Io lavoro come trattorista, lavoriamo 330 ettari, principalmente produciamo mais e erba medica per dar da mangiare alle vacche e dopo facciamo anche un po' di orzo e loietto. La difficoltà più grossa è trovare una macchina che riesca a fare tutti i lavori, da quello più grande a quello più piccolo, dal lavoro in campo al trasporti su strada e soprattutto ci vuole una certa manovrabilità per poter lavorare correttamente in campo e stabilità e comodità della cabina per i trasporti su strada. Con il Massey Ferguson 8S ci siamo trovati molto bene in questi campi. In azienda abbiamo il modello precedente che è il 7726S e su questo 8S265 cavalli con overboost a 285 ho riscontrato delle migliori prestazioni. Inoltre il motore Stage 5 ha tubi di scappamento più sottili che mi aumentano molto la visibilità e con la funzione Super Eco mi permette di raggiungere i 50 km orari a 1550 giri che vuol dire minore i consumi e aumenta il comfort in cabina. Una cosa che mi interessa molto della trasmissione Dyna 7 è che ha i due oli separati e si può utilizzare in modalità automatica che in campo mi permette di lasciare gestire tutto al trattore sia la marcia da usare che i giri del motore per garantirmi la velocità che gli ho impostato. Mi ha lasciato a bocca aperta la visibilità su tutti i lati anche dovuto allo spostamento del cruscotto sul montante destro la rumorosità è molto bassa, non è mai fastidiosa neanche durante il lavoro sotto sforzo e ho trovato molto comodo poter gestire tutta la macchina solo con la mano destra perché tutti i comandi sono molto accessibili e si può gestire anche il monitor touchscreen Datatronic 5 da cui puoi avere il controllo su tutta la macchina. Su questo 8S265 mi ha lasciato stupito la potenza idraulica e soprattutto il fatto di poter gestire soggettivamente ogni distributore sui comandi che ci sono in cabina. Su questo modello sono in arrivo altri due tipi di trasmissione il Dyna e Power che ha doppia frizione sulle gamme e il Dyna VT a variazione continua che sarei molto curioso di poter provare. Grazie a tutti i nostri spettatori